Ed eccoci dunque arrivati finalmente dopo ore e ore di attesa al momento di svelare i primi tre classificati del nostro fantastico contest caccia quiz fantastico ovviamente perché concepito dal sottoscritto dicevamo dunque i primi tre classificati che si porteranno a casa tre fantastici bannerini creati ad hoc per l'occasione come peraltro in tutti i contest del nostro splendido forum. E dunque apriamo come fece il parroco nell'ultimo contest che è stato fatto la nostra stanza staff per l'occasione visibile anche a voi comuni mortali ed ecco qua la nostra classifica finale aggiornata fino a questo momento col quarto posto di creeper che si porta a casa dunque la famosa medaglia di legno che vi verrà consegnata in un mercoledì di un mese di ispire. I prossimi 500 anni come già gli è stato scritto e ci apprestiamo a svelare il terzo classificato. E con 5 risposte esatte è Buemi Alguersuari complimenti a lui per essere riuscito a salire sul gradino più basso del podio un solo consiglio gentilmente un nick un po' più facile perché diciamo che non è il massimo della fluidità per quanto riguarda la pronuncia anche per quanto riguarda insomma lo scriverlo su un forum. Ho dovuto fare copia in colla per evitare di incrociarmi gli occhi con tutte queste lettere dunque terzo posto per lui complimenti 5 risposte esatte. Passiamo ora al secondo classificato colui che si posizionerà sul gradino intermedio del podio e che magari rosicherà un po' per non aver vinto magari eh. Andiamo dunque a vedere. E con 7 risposte esatte è la sorpresa barissimo dato per favorito alla vigilia da tutti i quotisti italiani e europei per la vittoria di questo contest riesce solo a ottenere un secondo posto comunque un ottimo risultato per lui ma che poteva che stando a quello che si diceva nei giorni scorsi poteva essere migliore. Comunque secondo posto 7 risposte esatte un 10% per lui complimenti complimenti davvero a lui ma è arrivato finalmente il momento il grande momento che tutti voi aspettavate da ore da giorni oserei dire da quando è iniziato il contest di sapere chi è l'uomo o la donna chissà che porta a casa questo questa grande vittoria in questo grande contest. E dunque senza ulteriori indugi andiamo a scoprire il suo nome. E complimenti a Juve 1 1 2 2 o 11 22 o 11 22 che dir si voglia che con ben 14 risposte esatte addirittura il 20% delle 70 domande che sono state poste in queste due settimane con 14 risposte vince questo contest doppiando addirittura il secondo in classifica. Una vera impresa per lui un utente davvero scaltro e preparato soprattutto ma più scaltro che preparato magari eh che riesce che è riuscito a intercettare ben 14 risposte a 14 domande e dare la risposta esatta. Dunque complimenti ancora a lui grazie a tutti quanti ci siamo spero vi siate divertiti con questo con questa gara e niente al prossimo contest e buon proseguimento sulla sezione sport di forum spazio games.